Spopolamento delle terre alte, un problema di cui si parla da sempre e che ora c'è chi cerca di portarlo all'attenzione dell'Europa. La situazione della montagna bellunese è a dir poco tragica. I primi ad andarsene sono i giovani ed è a loro che serve pensare. Bisogna tutelare i giovani perché sono quelli che portano avanti le tradizioni, la storia, la cultura, l'arte, i prodotti tipici, quelle che sono le peculiarità delle montagne nostre del bellunese e bisogna che l'Europa dia dei fondi necessari per poter far sì che queste persone rimangano nei propri paesi, rimangano nel proprio territorio a salvaguardia e tutela di tradizione, cultura e storia. La questione inevitabilmente diventa economica. Servono dei fondi, la montagna ha bisogno di essere tutelata, soprattutto salvaguardata e molto spesso questo non avviene, non avviene per mancanza di risorse umane appunto perché se ne vanno ma anche perché mancano le risorse vere, quelle che dovrebbe dare anche l'Europa e soprattutto si trova a confrontarsi la provincia di Belluno con la provincia di Trento e Bolzana, la regione Friuli-Venezia-Giulia, quindi due regioni autonome e quindi è molto difficile anche dal punto di vista economico, il confronto è chiaramente improponibile. Per invertire la rotta non basta l'Italia, anche l'Europa deve fare la sua parte. Ho presentato in Europa un'interrogazione proprio a salvaguardia delle province montane e in particolare, ripeto, di Belluno perché le due province interamente montane sono Sondrio e Belluno e queste due province hanno bisogno di essere tutelate, soprattutto con aiuti economici che vanno a salvaguardia perché non è solo turismo ma bisogna salvaguardare il territorio, i boschi e quant'altro perché se non si fa queste cose sicuramente chi rimane non ha la forza necessaria per poter così mantenere questi territori straordinari, patrimoni tra l'altro dell'UNESCO che purtroppo i fondi sicuramente mancano e l'Europa deve per forza intervenire.